Il prefetto Giuseppe Marani va in pensione dopo 40 anni di servizio. Lascio questa splendida terra, con dispiacere spero di tornare da turista innamorato dei luoghi e delle persone. Con queste parole affidate ad una lettera il prefetto di Sassari si congeda dal suo incarico in Sardegna per andare in pensione. Saluto le comunità delle due province, le istituzioni che le rappresentano, i parlamentari del territorio, le autorità regionali, le donne e gli uomini di queste bellissime realtà, scrive Marani, che ringrazia forze di polizia, vigili del fuoco e organi di informazione. Ho profuso ogni sforzo nell'esplettamento di quella funzione di mediazione dei conflitti sociali nella ferma convinzione. Spiega che l'agire fianco a fianco, coordinando e unendo gli sforzi, sia il modo più efficace per affrontare fenomeni e problematiche complesse. Tra le ultime più complesse vertenze da lui gestite c'è quella sul prezzo dell'Ateo Vicaprino, chiusa con un accordo tra pastori e aziende di trasformazione. I risultati fino a raggiunti possono essere di buon auspicio, osserva Marani, per il proseguio della vertenza. Il negoziato infatti prosegue sugli altri nodi della filiera. Dal primo aprile, Maria Luisa ad Alessandro sarà il nuovo prefetto di Sassari.